Quanto sta avvenendo intorno all'ospedale di Paola ha sollevato nuovamente l'allarme sulla presunta pericolosità della struttura. Qualcuno ha anche ricordato quanto riportato nella cosiddetta relazione Barberi, ovvero il censimento di vulnerabilità ai terremoti degli edifici pubblici, strategici e speciali, svolto nel 1999 in alcune regioni, Calabria compresa da un pool di scienziati coordinati dall'allora capo della protezione civile Franco Barberi. La relazione classificava il San Francesco di Paola al settimo posto tra le strutture esaminate. Le cose non stanno esattamente così, ha spiegato Gianfranco Bartolo, geologo incaricato dal comune di Paola per seguire i lavori in corso per la messa in sicurezza della collina su cui sorge l'ospedale di Paola. Ma ha aggiunto, non lo dico io, bensì l'autorità di bacino della regione Calabria. Il PAI, il piano per l'assetto idrogeologico dell'organismo regionale, infatti classifica con R4, rischio molto elevato, una vasta zona intorno alla principale struttura sanitaria di Paola. Come delimitato dal retinato di colore rosso, risultano due larghe fasce di terreno a L, a Monte e a Valle della Collina, sui lati nord e ovest. Dalla carta disegnata dai tecnici dell'autorità di bacino calabrese, l'intero edificio del San Francesco di Paola non è a rischio. A rischio, e questo è evidente, spiega ancora Bartolo, sono le scarpate della collina che andrebbero consolidate. Infatti l'unico spicchio di collina su cui sono stati fatti lavori simili non è crollato. Si tratta della porzione di terreno a fianco dell'attuale frana, l'unica sulla quale gli sforzi della politica per intervenire hanno portato qualche frutto. Gli geologi hanno anche effettuato una ricostruzione storica del sito e sostengono che un tempo sulla collina sorgeva un cimitero. In seguito l'area è stata individuata come idonea ad ospitare l'attuale ospedale. Lo spianamento del cocuzzolo, necessario per la sua realizzazione, avrebbe generato le masse di terreno di riporto che oggi rischiano costantemente di franare a causa dei fenomeni atmosferici e, come ipotizza la procura di Paola, anche per mano dell'uomo.